Chiede la sala convegni della Fondazione Pescara Abruzzo, presieduta da Nicola Mattoscio, per spiegare in conferenza stampa che è ora di rivedere tempi e modi della gestione della Fondazione stessa. All'indomani dell'audizione di Mattoscio in Commissione parlamentare d'inchiesta, il senatore Luciano D'Alfonso mette in campo la sua proverbiale creatività comunicativa e una certa sottile finezza nella missiva inviata alla Fondazione per chiedere l'utilizzo della sala. D'Alfonso scrive di essersi fatto carico dell'iniziativa per favorire la conoscenza e la comprensione degli ultimi 25 anni di presidenza, ma anche per alleviare la tensione che opprime lo stesso Mattoscio e che sarebbe parsa evidente nel corso dell'audizione, soprattutto quando i parlamentari hanno iniziato a rivolgere domande dirette, in qualche caso rimaste senza risposte sufficientemente chiare. I punti principali riguardano le erogazioni della Fondazione, che potrebbero non essere state sempre disinteressate, ma anche la longevità della governance che rischia di generare riserva di potere e ancora la vicinanza per interessi accademici tra Mattoscio e la presidenza dei sindaci revisori, con una possibile commistione tra controllore e controllato. D'Alfonso scrive ancora «Siamo tutti servitori del bene pubblico e soprattutto in questo momento è prezioso che nessuno si rovini la salute pur negli oneri dei ruoli che svolge». Ironia? Sarcasmo? Presa in giro? Di certo c'è che Mattoscio, poco prima, aveva attribuito le sue rielezioni al vertice di Pescara-Abruzzo per circa un quarto di secolo ad uno stato di necessità della Fondazione, in sostanza lasciando intendere di essere o di sentirsi insostituibile. D'Alfonso non ci sta e oggi ha accompagnato la richiesta della Sala con la sua stessa presenza, ossia recandosi di persona nella sede della Fondazione Pescara-Abruzzo in Corso Umberto. La volontà di fare questa comunicazione attraverso l'utilizzo dei locali della Fondazione descrive proprio la volontà di contribuire attraverso il mio patrimonio conoscitivo a ricostruire di cosa si tratta l'esperienza della Fondazione in provincia di Pescara e lo faremo con atteggiamento laico, facendo emergere ed evidenziando i dati di fatto, i dati anche temporali dei fatti, senza togliere alcunché al valore dell'esperienza, al valore anche dei curricula. Ho trovato con interesse la comparazione che hanno fatto i colleghi parlamentari impegnati nella commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano, per esempio il rapporto tra gli organi di gestione e gli organi di controllo, ma sarò davvero neutro. Cercherò di fare in modo che vengano soltanto in evidenza i fatti. Cercheremo anche di capire se serve qualche norma in più per evitare l'affaticamento che a volte è stato anche descritto, l'interpretare più ruoli per garantire una continuità descritta come necessitata. Io mi rendo disponibile, se servono, a produrre proposte di emendamenti e di norme, in maniera tale che non ci sia questo, come si può dire, sottoporsi ad una contorsione. Io non ho chiesto le dimissioni, ho chiesto un confronto pubblico. C'è una lettera formale, ragionata, con la quale si pone il tema della durata di questi incarichi, del buco anche normativo, perché se c'è la necessità di durare oltre termine, facciamo in modo che la norma sia chiarissima. Non ci deve essere la necessità di alternare Presidente, Segretario Generale, magari facendo nascere l'esercizio del ruolo ad hoc, solo e soltanto per quella persona.